La completiva dichiarativa e la completiva volitiva si costruiscono entrambe con ut più congiuntivo, tuttavia presentano alcune importanti peculiarità. Rivediamo due momenti del video di Cesare e la minaccia degli Elvezi. Evenit ut de adventu tuo in provinciam Elvezi e Docti Sint. Ut de adventu tuo in provinciam Elvezi e Docti Sint è come abbiamo visto una subordinata completiva dichiarativa perché dichiara cioè rende esplicita, rende chiaro l'evento implicito nella forma Evenit e accade, succede. Quindi le dichiarative corrispondono a una dichiarazione e dipendono sempre da verbi che rimandano all'idea dell'accadere o che indicano il risultato di un'azione oppure la constatazione di un fatto. Certe te rogabunt ut iter per provinciam faciant sicuramente, dice l'abbieno rivolto a Cesare, ti chiederanno te rogabunt, sottinteso gli Elvezi, ut iter per provinciam faciant di passare iter facere attraverso la provincia, cioè attraverso la gallia narbonese. Ut iter per provinciam faciant è una completiva volitiva perché dipende da un verbo rogo che significa chiedere. Infatti le volitive esprimono una volontà, un'esortazione, una richiesta, una preghiera o un comando e dipendono da verbi riconducibili a questi ambiti di significato oro, monio, impero, rogo e usano la negazione ne che appartiene all'ambito della volontà. Invece come abbiamo visto la completiva dichiarativa usa la negazione ut non che esprime un enunciato reale. Quindi un criterio per distinguere la dichiarativa dalla volitiva è prestare molta attenzione alle espressioni e al significato delle forme verbali da cui queste subordinate dipendono.